Per l'aiuto dell'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore e tutta l'amministrazione comunale gli sta dando una mano molto importante, insieme a loro noi crediamo di fare calcio pulito, serio e germino a Nardò e a Nardò. Non mi rascondo che sono anche io un po' mozionato, anche la zona di Nardò vi conosco tutti, però io un po' di penne lo faccerò. Grazie a voi.